Il servizio di emodinamica al Veneziale di Sernia continuerà a garantire le prestazioni nei limiti dei turni effettivi coperti sulla base del personale a disposizione. Nessuna chiusura quindi a ribadire un concetto che era già comprensibile per Tabulas nella bozza di posse elaborata dalla struttura commissariale ci ha pensato il tavolo tecnico interministeriale che ha incontrato i commissari Bonamico e Di Giacomo. La struttura di Sernia che al momento non può essere inserita formalmente nella rete di emergenza non potendo garantire l'operatività per le intere 24 ore nei turni scoperti farà riferimento al Cardarelli di Campobasso. Questa la regione dell'accorpamento tecnico prevista nel piano operativo sanitario 2023-2025. Detto questo va precisato che laddove nel corso del tempo dovessero cambiare le condizioni prima tra tutte l'aumento del personale medico è chiaro che l'emodinamica al Veneziale tornerà alla sua piena operatività. Un risultato quello raggiunto che spegne sul nascere le polemiche divampate in questi giorni. L'argomento post tuttavia resta caldo con le opposizioni in consiglio regionale che hanno annunciato la richiesta di un consiglio monotematico sul tema. Fondamentale nel raggiungimento dell'obiettivo è stato il lavoro di concerto e sinergia svolto dai commissari e dal presidente della regione Francesco Roberti che in una sua nota ha sottolineato l'impegno politico nelle sedi romane svolto in questi giorni. Sempre nella prospettiva del recupero alla piena funzionalità del servizio di emodinamica a Esernia, Roberti ha annunciato l'avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento di nuovi emodinamisti da assegnare proprio al nosocomio Pentro. Sempre in sede di confronto col tavolo tecnico interministeriale è stata ribadita la qualifica di ospedale di area disagiata per il caracciolo di Agnone. Una innovazione di carattere strutturale è quella concordata per le lungodegenze e le terapie riabilitative al momento divise tra l'ex ospedale di Venafro e quello di Larino. Da qui in avanti le due attività verranno centralizzate con la riabilitazione 25 posti ospedalieri che verrà totalmente assorbita dall'ex ospedale Vietri di Larino e la lungodegenza invece 50 posti ospedalieri che verrà concentrata presso l'ex ospedale Santissimo Rosario di Venafro.